Ciao ragazzi, oggi siamo in un centro commerciale, sto scegliendo i mobili con le mie ragazze. Cercherò di fare un vlog senza farglielo capire. Attenzione. Questa tavolina è bella, non ti piace? Grazie. La dura vita del centro commerciale, la dura vita del fidanzato. Ma tu che tipo di mobili stai scegliendo, stai cercando? 39 euro? Non sto facendo video, io non sto facendo video. Sto facendo le foto, se poi dopo le vuoi vedere. Qualche foto dei mobili, stop. E poi a qua, a questa, a questa e a questa la foto. Fatta. Ora dove la devo fare è la foto. E che bello setup di colazione, no? Proprio, questa è full. Un bel tavolo. Una cucina. Un bel tavolo. Un bel tavolo. Un bel tavolo. Le segnaline del MoMA Allo Ragazzi sono stato sgamato Il Cuco vi saluto In modo a soccarsi Soccarsi